Vi auguro una buona giornata. Logica dell'abbondanza. Se pensi all'abbondanza come a qualcosa che avverrà nel futuro, sarà sempre un passo avanti a te. Vedi, pensa, percepisci l'abbondanza e parlane come di qualcosa che hai già nel presente e ciò accadrà. Questa carta ti è stata estratta perché gli angeli hanno ascoltato le tue preghiere. Ti aiutano a elevare i tuoi processi mentali e le tue convinzioni per entrare nella mentalità dell'abbondanza, una maniera potente per manifestare. Questa carta indica che forse hai nutrito preoccupazioni, pessimismo o risentimento verso la tua situazione economica. Di solito questo atteggiamento comprende anche lamentarsi dei soldi ed è un'abitudine inconsapevole che blocca il flusso dell'abbondanza. Entrare nella logica dell'abbondanza significa scegliere parole che affermano ciò che desideri invece di ciò che non vuoi. Parla, pensa e percepisci l'abbondanza come se l'avessi già. Quando ti servi di parole che affermano abbondanza come uno stato di fatto, l'abbondanza materiale arriverà in brevissimo tempo. L'abbondanza infatti prima è presente sotto forma di pensieri, parole ed emozioni, poi l'energia si manifesta in una forma tangibile. Questa carta ti invita quindi a usare solo parole positive quando parli di finanze e di altre fonti di sostegno e di guadagno. Questo è il messaggio di oggi. Vi auguro una buona giornata.